Il Campobasso si prende la prima e meritata vittoria interna. Lo fa ai danni di una Paganese apparsa sfilacciata ed incapace di reagire alle difficoltà. Cudini decide di rinunciare a Vanzanne e di schierare pace. Cambia anche in attacco dove Di Francesco rileva Emma Usso rispetto a Palermo. Rientra Fabriani fra i titolari. Rosso-Blu creano tanto e vincono 2-0 di fronte ad una straordinaria cornice di pubblico di quasi 3.000 spettatori. Dirige Collu di Cagliari. Presenti circa 200 tifosi della Paganese. Davvero una bella partita anche sugli spalti. Meglio i campani. Dopo 50 secondi la girata di Firenze su cross di Volpicelli. Termina di pochissimo a lato con Raccichini sulle gambe. Meglio gli ospiti che tuttavia non segnano per gran merito del portiere di casa. Al decimo cross di Firenze va al volo Castaldo. Da due passi interviene sotto rete Volpicelli. Che parata di Raccichini e si rimane 0-0. Una sfida al portiere più bravo all'undicesimo cross di Fabriani. Stacco imperioso di Di Francesco. Ma che parata di Baiocco vestito di arancione. Si rimane anche qui 0-0. Ma solo per un altro piccolo frangente. Perché al quattordicesimo Vitali decide di fare tutto da solo. Ignorando anche il movimento di Rossetti. Dal fondo mette al centro. Pasticcio fra Baiocco e i suoi colleghi da due passi. Il gol di Di Francesco fa esplodere di gioia. E circa 3.000 di Selvapiana. Campobasso 1-0 Paganese 0. Molto bene. I rosso-blu che potrebbero anche bissare al diciassettesimo. Quando Rossetti in area si smarca. E conclude dopo una buona trama. Baiocco deve salvare la propria porta. Rossetti ignora i companni al centro. E un Campobasso che corre al ventisettesimo. Di Francesco in area. Mette al centro dove la palla carambola. In maniera fortunosa sui piedi di Tengorang. Trentaduesimo. Conclusione mancina alta. Sopra la traversa di Vitali. Uno dei più in palla dei locali. La Paganese non graffia. Il Campobasso è bravo a chiuderla. Al trentottesimo. Scambio fra Rossetti e Fabriani. Quest'ultimo chiude l'azione con un destro a lato. Si va all'intervallo. Senza minuti di recupero. Gianluca Grassadonia cambia. Dal primo della ripresa dentro. Piovaccari e Scana Gatta. Al posto di Sbampato. E Giannone. Ma inizia meglio la squadra di Cudini. Che dopo un minuto e mezzo trova il bis con Rossetti. Che effettua un dribbling su un difensore campano. E poi si inventa un gol sotto la traversa. Per il tripudio della Nord Scorrano. Gol molto bello. Il quarto stagionale per Mattia Rossetti. Campobasso. Che vince ora con grande merito. All'ottavo fraseggio rapido. Che porta la conclusione alta di poco. Di Di Francesco. Deve passare un altro minuto per un tiro da lontano di Bontà. che per poco non fa gioire la Nord. Dentro Zito. Fuori Tissone. Altra mossa di Grassadonia. Al quarto d'ora. Fabriani disegna per la correzione di Rossetti. Palla fuori. Ma l'attaccante era in fuorigioco. Cudini cambia. Dal ventisettesimo. Fuori pace. Salutato da applausi calorosi. E Di Francesco. Entrano Vanzani e Liguori. Al ventinovesimo. Tengorang può prendere la mira. Baiocco si deve tuffare. La Paganese lascia indisturbato. Raccichini. Sono i rossoblu a creare. Nella serata di Selvapiana. I locali meriterebbero anche di triplicare. Al trentunesimo. Discesa importante di Rossetti. Che giunto al limite. Conclude davvero di un non nulla fuori. Al quarantesimo. In piena area. Vitali. Compie una sterzata sull'avversario. Prima di andare al tiro. Compresa di Baiocco. La Nord sente vicino. Il primo successo interno stagionale. E non smette mai. Di incitare la squadra. Cudini raddoppia i cambi con gli ingressi al quarantaduesimo di Emma Usso. E De Biase per Rossetti e Vitali. Quattro minuti di recupero. Novantesimo e trenta secondi. Liguori è innescato da un rimpallo. E va poi a spedire il pallone sull'esterno della rete. Finisce con la vittoria strameritata del Campobasso. Che avrebbe potuto segnare anche altre marcature. al cospetto di una paganese che ora ha bisogno di ritrovare se stessa. Russo-Blu che salgono a quota 8 punti. E sono pronti a preparare la settimana di lavoro in vista della trasferta a Monopoli.